Cuccelli Se la seconda partita è terminata con un 6 a 2 del nostro La terza intensifica il crescendo Mitic tenta di scendere a rete Ma la palla resta nettamente al di qua E Cuccelli vince per 6-1 E vince ancora nella quarta e ultima per 7-5 Alla prima palla decisiva Sotto per il secondo punto Contro il mancino pala da Canepele Se la sbrigherà rapidamente Dopo un inizio esplorativo Impone il suo gioco di fondo campo Costringendo l'avversario ad una piccola maratona Vittoria in tre partite E adesso il doppio Palla da Mitic contro Cuccelli del Bello Il migliore dei quattro sarà Del Bello Salda base della nostra coppia I due jugoslavi sono di fronte Mitic perde il punto a rete Cambiato il campo non cambia la sorte Di nuovo a rete la palla di Mitic Adesso Del Bello fa tutto lui Risposta col rovescio Punto col diritto Dominiamo con pocosa bravura Mitic rovescia Cuccelli lascia E Del Bello mette una splendida firma finale Dopo 17 anni l'Italia è di nuovo finalista della zona europea Ed è già un bel risultato